L'agricoltura è certamente uno dei punti essenziali per lo sviluppo economico del territorio della regione Puglia, nello specifico sappiamo tutti la vocazione, chiamiamola così, rurale dei nostri territori, l'agricoltura come alternativa alla monocultura dell'acciaio. Si tratta però di potenziarla, di sfruttare effettivamente le potenzialità, le risorse legate al mondo agricolo. Ne parliamo con Agostino Perrone, detto Costantino, che è candidato con Fratelli d'Italia al Consiglio regionale pugliese a sostegno di Raffaele Fitto, candidato presidente. Per quanto riguarda l'agricoltura io non sono nel settore ma ho tanti rapporti con imprenditori agricolturi che lamentano il fatto che non sono stati considerati per quanto riguarda le risorse, si parla dei PSR che sono stati mandati indietro, che non hanno sfruttato quelle somme che ci toccavano, anche perché il nostro territorio vive dall'agricoltura. C'è stata poi tutta quella vicenda della Xilella e quindi gli olivi abbattuti. Diciamo che forse non c'è stato un adeguato studio della realtà. Si è andati un po' per improvvisazione piuttosto che con un metodo scientifico e la nostra agricoltura ne ha risentito. Ma io direi su questo, in base a quelle che ho ascoltato, diciamo tutto il percorso di questo problema, forse non sono intervenuti in tempo, nei tempi. Non c'è stato un adeguato intervento contemporaneamente anche quello. Cosa si sente di dire al territorio, agli amici agricoltori, perché effettivamente con l'agricoltura si può fare economia? Diciamo che lei non è un imprenditore agricolo, è un imprenditore commerciale, opera in alto nel settore della panificazione, però da imprenditore ad imprenditore, cosa si sente di dire? Su questo posso dire che quando uno è imprenditore le idee sono quelle. E se un imprenditore entra in politica e porta la linea imprenditoriale, è bravo a intercettare e capire come muoversi sia per le risorse sia per il lavoro che svolge. Diciamo che l'imprenditore, qualunque sia il versante, il settore in cui opera, è un capitano, tra virgolette, un capitano d'impresa. Soprattutto, diciamo capitano, come ha detto lei, ma è responsabile. Entrando in politica tu diventi responsabile del territorio e dei settori. Io ho sempre fatto questo pensire, ho sempre detto questo, che chi rappresenta politicamente diventa il genitore dei settori. Grazie.